Una catena umana unita dal tricolore per dar voce alle tantissime aziende del commercio e dei servizi piegate dalla pandemia. Così all'insegna dello slogan salviamo le imprese anche a Pistoia hanno manifestato in un flash mob nella zona del globo decine e decine di imprenditori. Il loro è stato un grido d'allarme dopo mesi di chiusura, ben sette nell'ultimo anno. Nessuno, hanno sottolineato i presidenti delle due associazioni che hanno promosso la mobilitazione, Confcommercio e Confesercenti, può resistere in queste condizioni. Nessuno vuol negare la presenza del virus fra di noi, nessuno è negazionista, però occorre trovare la quadra per poter anche lavorare perché senza lavoro non c'è dignità e le aziende hanno bisogno e vogliono assolutamente lavorare. Dal turismo alla ristorazione, passando per la moda e le fiere, gli imprenditori hanno puntato il dito contro il governo chiedendo di essere tutelati, di cambiare rotta nella gestione dell'emergenza. Le aziende stanno andando verso una carneficina sociale fatta di fallimenti, licenziamenti e degrado, hanno detto i manifestanti. La richiesta è di riaprire immediatamente in sicurezza tutte le attività, azzerando le imposte per il 2021 a tutti i livelli, dal locale al nazionale, con ristori proporzionati alle perdite di fatturato. Noi chiediamo di considerare in maniera diversa la situazione delle nostre aziende perché se non fosse portato immediatamente l'attenzione, la problematica di certi settori, dell'azienda che noi rappresentiamo, il problema sarebbe superato perché dopo si va a curare il morto.